Abbiamo fatto 30. La Fondazione Carifano, in occasione del trentennale dalla sua istituzione, indice un bando di concorso rivolto ai giovani degli istituti secondari di secondo grado del territorio della propria zona di competenza. Dottor Gragnola, qual è il tema di questo bando di concorso veramente molto stimolante ed interessante per i nostri ragazzi? Abbiamo fatto 30. È un bando che rientra nelle attività del trentennale della Fondazione. Quest'anno ricorrono i 30 anni dall'istituzione della Fondazione Cassa del Risparmio di Fano. E questo è uno degli eventi che dovrebbe in qualche modo aiutare i giovani a conoscere la Fondazione, a comprenderla ed attivarsi per proporre qualche cosa alla Fondazione. Tant'è che questo bando di concorso, che è essenzialmente rivolto alle scuole di secondo grado e di tutto il nostro territorio di riferimento, è volto a stimolare i giovani per conoscere la Fondazione, per reinterpretare le attività della Fondazione e per proporsi nelle modalità che riterranno con l'aiuto dei loro insegnanti. E questo è un concorso che premierà gli studenti o le classi di studenti che proporranno alla Fondazione un loro lavoro. Siamo alla fine di un anno scolastico, quest'estate ci sono tante iniziative per i giovani che la Fondazione sta organizzando, al rientro della... e noi ci auspichiamo una partecipazione abbastanza importante da parte dei giovani, e al rientro nel prossimo anno scolastico, all'inizio del prossimo anno scolastico, potranno concretizzare quello che nel frattempo è maturato. Questo concorso prevede anche un premio in denaro e quindi speriamo che i giovani accolgano questi stimoli della Fondazione.